Perché è così difficile amarsi? Molte persone oggi ci dicono di amarsi. Amati, tutti quanti. Sembra diventata una moda. Ma la cosa fantastica è che nessuno riesce a farlo bene. O meglio, le persone tendono ad amarsi mentalmente, ma non arrivano nel loro io, nel loro profondo. E la risposta è molto semplice. Si chiama famiglia. Quando quella mamma mette alla luce suo figlio, quella mamma ama suo figlio. E il papà ama suo figlio. Ho sbagliato. Ho imparato a guidare la macchina osservando gli altri. Ho imparato a guidare la macchina osservando che mio padre insegnava agli altri a guidare la macchina. La stessa cosa vale per l'amore. Una persona ama se stessa quando qualcuno gli ha dato il buon esempio. O meglio, quella mamma che si amava, che si amava tantissimo, che si sentiva preziosa e che poi a sua volta gli ha insegnato a suo figlio e a sua figlia come fare. Soprattutto alla figlia, perché la figlia guarda la madre per crescere, mentre il figlio guarda il padre, o meglio il capobranco. Oggi le persone non si amano, perché i loro genitori non si amavano. Amarsi significa essere egoisti in un modo intelligente, in un modo equo. Essere egoismo nel senso non del parlo di materiale, ma proprio sento una cosa, quella è la cosa che voglio. Oggi invece le persone sono corrompibili all'amore. E quando una persona è corrompibile all'amore, non è amore. Ma vuol dire che tu hai un prezzo. Pertanto, se oggi sei in difficoltà e senti che non ti ami, la prima cosa che devi fare è quello di tornare alla fonte. Insegna a tua madre ad amarsi, se sei donna. Insegna alla mamma ad amarsi. In che modo? Amandola tu. Ti amo mamma, ti abbraccio, ti accolgo e ti lascio andare per il tuo destino. insegna a tuo padre ad amarsi. Insegna a loro ad amarsi. Così facendo loro ti daranno un abbraccio e in quell'abbraccio tu ti ami. Riparti da lì, riparti dal loro amore e ogni giorno fai qualcosa per te. Ogni giorno. Ogni giorno. Che cosa hai fatto per te oggi? Che cosa hai fatto per te ieri? Fare, creare. creare qualche cosa di meraviglioso ma anche di semplice dove tu metti la tua anima preziosa davanti a qualsiasi cosa nella tua vita perché tu sei nato per te stesso, tu sei nata per la tua evoluzione. Di conseguenza tutto ciò che ti circonda non è altro che un premio all'amore che tu dai a te stesso. più amore ti dai e più la vita ricambierà l'amore che ti dai. Quindi torniamo alla sorgente. Cerchiamo di lavorare sulla nostra parte non verbale e non solo sulla nostra mente. Di quello che ti dice amati non vale, non arriva. Noi siamo animali voluti con coscienza e il nostro linguaggio più potente sicuramente è il linguaggio animico. Anima. Buona giornata.